dirigente e ricercatore del CREA e passiamo adesso al dottor Giacomo Zappa che è il direttore di igiene pubblica dell'ASL 3 e che è qui anche su richiesta del nostro presidente di Federsanità in Ciliguria che è Luigi Carlo Bottaro che in questo momento è all'estero e che ci ha chiesto proprio di focalizzare sugli aspetti legati al verde e alla salute questo tipo di convegno. Intanto ringraziamo e salutiamo il vice presidente Alessandro Piana che sarà di nuovo domani qua con noi per il nuovo PSR che è in fase di costruzione quindi ci rivediamo presto con te Alessandro. Di Giacomo Zappa volevo però dire una cosa che non tutti non tutti sanno. Lui è la persona che senza mai apparire senza mai mettersi in mostra ha gestito tutta la fase delicatissima e difficilissima drammatica tragica della pandemia a Genova e non solo tutta la fase diciamo esplosiva ma poi soprattutto ed è quello che voglio sottolineare quella delle vaccinazioni facendolo con un'efficacia straordinaria che ha portato il territorio dell'ASL 3 che è un territorio massimo e complesso a raggiungere degli obiettivi molto rapidi e molto efficaci nella vaccinazione contro il covid. Quindi io volevo cogliere l'occasione siccome non c'è mai stata prima per ringraziarlo da parte di Anci Liguria Federsanità Anci Liguria e nel frattempo gli do la parola per Verde Urbano ed effetti sulla salute per questo suo intervento. grazie molte della presentazione che è troppo lusinghiera perché quello che ho fatto è quello che dovevo fare e di conseguenza lo ritengo un obiettivo dovuto. Sono contento che le cose siano andate bene in quel settore. Innanzitutto devo ringraziare per questo invito. Il dottor Bottaro ci teneva moltissimo e sulle prime ho detto ma perché mi mandi a parlare a un convegno in cui devo dire qualcosa che è totalmente ovvio. È il caso di dirlo? Che il Verde Urbano ha un effetto sulla salute? È una cosa ovvia. Poi pensandoci però invece mi sono reso conto che è opportuno parlarne anche in termini di salute perché c'è qualcosa che evidentemente ha un impatto notevole e ci sono delle considerazioni che è giusto fare. Per cui ho avuto ragione il dottor Bottaro a mandarmi e adesso sul finale vi farò vedere in particolare il perché. Se parliamo di salute e Verde Urbano come dicevo è una cosa abbastanza banale perché non è neanche necessario andare in uno dei parchi cittadini a Genova piuttosto che all'estero o nelle altre città italiane in cui c'è Villa Borghese, il Gorky Park, Hyde Park e il Parco Non Solo di Parigi. È sufficiente vedere l'immagine, un diorama, un poster in cui è rappresentato il Verde che immediatamente si determinano nel nostro corpo delle reazioni di adattamento in termini positivi. tant'è vero che in moltissimi luoghi che hanno anche una finalità commerciale al fine di mettere a proprio agio le persone, che cosa si fa? Non si fa altro che riprodurre in maniera sintetica, se vogliamo, qualcosa che facilita il rilassamento, la propensione positiva delle persone magari all'acquisto proprio per una percezione positiva dell'ambiente e pertanto è una cosa che è legata a dei meccanismi istintivi innaturali e che tutti conosciamo e che possiamo verificare ogni volta che siamo in un luogo contraddistinto dal Verde. A maggior ragione se siamo dei cittadini, specie una città come Genova che per motivi orografici di costituzione del territorio e dello sviluppo urbano che ha avuto, non è ricchissima di queste aree ricche di verde, di piante, di alberi. Ma l'esperienza di tutti noi, andarle nel momento in cui le troviamo, ma a volte per caso, ritrovarci e avere immediatamente una sensazione di immediato benessere. Benessere che altro non è che salute. A Genova purtroppo le occasioni non sono frequenti, come dicevo. Abbiamo dei bellissimi esempi di parchi cittadini, purtroppo sono pochi. Ci sono anche delle vie che però sono molto suggestive, perché ha fatto, tra virgolette, l'esperimento nel corso di quest'estate torride, in cui immediatamente si è la percezione che c'è una soluzione della quale ci siamo dimenticati. Andando molto velocemente al riguardo di quelle che sono gli effetti sulla salute del verde, della città che contiene del verde, esiste una poliedricità di elementi che sono stati ben analizzati nel corso delle esposizioni precedenti. Quello che, in maniera molto sintetica vorrei dire, è che il verde e gli alberi sono un ammortizzatore ambientale dell'aria. Il verde e gli alberi in particolare hanno una capacità di ammortizzare tutti gli insulti che noi facciamo all'ambiente in cui dobbiamo vivere. La società odierna, l'economia odierna, fa di tutto per rendere l'ambiente in cui dobbiamo vivere inospitale e ci sono questi giganti amici che ci proteggono e sono gli alberi. Lo fanno in vario modo. È opportuno tenere presente che l'uomo si è evoluto dal punto di vista comportamentale in un modo molto più veloce di quello che è stato l'evoluzione del proprio corpo, che è un insieme di tanti fattori, quello biologico, biochimico, quello ortopedico. C'è stata un'evoluzione del nostro comportamento, del nostro ambiente di vita molto più veloce di quello che il nostro corpo è riuscito a fare. Ci sono delle evidenze particolari. A titolo di esempio, uno dei punti più deboli del corpo umano legato a questa evoluzione così rapida è stato il passaggio dalla postura quadrupede alla posizione eretta, che ci ha permesso di utilizzare le maglie di arti anteriori per poter fare delle cose, facendo delle cose si è stimolato ancora di più il processo di selezione o di evoluzione neuronale. Però questo ha avuto un rovescio della medaglia. Il fatto che più o meno un'ampissima percentuale di popolazione dopo una certa età, se non addirittura in età giovanile, ha dei problemi a livello lombosacrale, perché da una posizione rettilinea della colonna vertebrale mettendoci in piedi abbiamo una rotazione a livello dell'articolazione femorale che però è insufficiente e di conseguenza abbiamo dovuto torcere la nostra colonna a livello lombare, lombosacrale, dove c'è un arco che mette in crisi tutta quanta la meccanica e per cui se uno non è particolarmente attento o se, ahimè, è sottoposto a certe sollecitazioni poi ha un certo tipo di problemi. E questo vale, è una cosa che è facile da capire perché è meccanica, ma vale anche per tutto il resto. Ed è stato troppo veloce, così come il passaggio dalla stazione quadrupede a quella retta, il passaggio dal vivere nella natura al vivere nella città. È stato un passaggio troppo veloce, sono state tolte delle cose e sono state aggiunte delle altre che sono nocive. pertanto la presenza di quello che è il nostro vero habitat naturale, che è caratterizzato dai migliaia di anni precedenti dalla presenza del verde è una garanzia per la nostra salute. Gli elementi sono stati ampiamente illustrati, però quello che secondo me è importante sottolineare è proprio questo. Il fatto che noi ci siamo trasferiti in un ambiente ostile e lo stiamo rendendo ancora più ostile volontariamente, inseguendo quello che per certi aspetti è un progresso economico, punto interrogativo. Va bene, però dobbiamo sempre ricordarci che tutte le azioni devono essere bilanciate per non creare ulteriore danno. Come dicevo, gli alberi sono dei giganti nostri amici che ci proteggono perché fanno una serie di cose che sono state citate, convertono l'eccesso di CO2 che viene rilasciato dai processi di combustione, trattengono una notevole quantità di particolato che diversamente respireremmo e aumenterebbero il danno prodotto dall'acquinamento ambientale e soprattutto e oltretutto determinano un'azione immediata a livello di sistema nervoso perché è stato effettivamente rilevato che, come dicevamo prima, si utilizza anche per motivi commerciali, si utilizza per far rilassare le persone anche in un ambiente interno, essere all'interno di un ambiente verde, un ambiente naturale, dotato di alberi e vegetazione, determina delle modificazioni dell'attività elettrica cerebrale, la cui estremizzazione di stimolo, come tipica quella della cittadina, della vita cittadina, può produrre degli eccessi che estremizzando sono quel tipo di alterazione che è parente della malattia epilettica, è in grado a livello cardiovascolare di ridurre la frequenza cardiaca per un effetto che deriva dall'effetto neurogeno, di ridurre la frequenza respiratoria determinando un incremento dell'efficacia respiratoria che a propria volta migliora l'efficienza cardiaca, diminuendo l'affaticamento cardiaco e riducendo i fenomeni degenerativi del musolo cardiaco. Sempre parlando di medicina e verde urbano, poi vado molto in maniera irregolare e spontanea, ci sono delle cose che si parlano tra verde urbano e medicina. Una è quella che vi ho detto, il passaggio dalla stazione retta alla passione quadrupede a quella retta e il mal di schiena, l'altra è un paradigma della medicina. In tutti i libri di terapia medica, nella prima pagina dopo la copertina, c'è una raffigurazione di un santo che è San Sebastiano, che voi, se forse avete presente, nella raffigurazione delle chiese, è il santo che ha una scura nella testa, una lancia che gli trafigge il costato, una freccia che gli passa attraverso, tutte le tipologie di ferite, che è il martirio di San Sebastiano. Ebbene, tutti i libri di terapia medica, tanti libri di terapia medica, hanno questa figura, questa effigia di San Sebastiano e sotto c'è una frase che secondo me dovrebbe essere tenuta presente anche a livello urbanistico quando si fanno delle scelte, delle decisioni e questa frase è primum non nocere. per cui la prima cosa che andrebbe fatta per quello che riguarda la tutela della salute in correlazione con il verde urbano è non compiere atti che determinano un detrimento del patrimonio arboreo che abbiamo nelle città perché è un documento che noi arricchiamo e prima di recuperarlo, abbiamo visto che i tempi di latenza per poterli recuperare sono comunque sia lunghi e non senti garanzia di successo. Poi, perché è così importante parlare di verde urbano correlato al discorso della medicina? Perché, ahimè, noi viviamo una fase di riscaldamento globale che abbiamo visto sta modificando completamente tutta l'ambiente in cui viviamo e che sta producendo dei fenomeni ingravescenti. Fenomeni ingravescenti che portano alla famosa emergenza caldo che tutti gli anni, un po' come in autunno sentiamo parlare dell'influenza, i soliti discorsi eccetera, tutti gli anni quando arriva, adesso comincia a essere fine giugno, l'ondata di caldo, sentiamo parlare di emergenza caldo e di collasso dei pronto soccorso, perché effettivamente l'alterazione del clima cittadino è tale che un numero elevato di persone portatori di patologie croniche o semplicemente perché avanti negli anni non riesce più a sopportare la situazione climatica, non riesce più a sopportarla perché è in città e spesso e volentieri la città si è impoverita di quello che è il gigante buono che protegge anche questa fascia di popolazione, non c'è il gigante buono che la protegge e queste persone iniziano a stare male dal punto di vista respiratorio, come dicevamo, dal punto di vista cardiologico, chiamate al 118, pronto soccorso intasati e questo problema poi viene pagato da tutti perché quando il pronto soccorso è intasato e a Genova sappiamo cosa vuol dire il pronto soccorso perché chi, ahimè, deve passarci lo vede, poi tutti ne pagano le conseguenze perché il pronto soccorso intasato rallenta anche l'altra casistica delle persone che magari non partiscono il caldo. A questo riguardo è opportuno ricordare che il riscaldamento dell'aria avviene per strofinamento sui corpi caldi, cioè non è l'irradiazione solare di per se stessa che scalda l'aria, ma sono i corpi riscaldati dall'irradiazione solare che a loro volta per sfregamento dell'aria riscaldano l'aria e ci ritroviamo con una città infuocata e immediatamente viene da pensare ad esempio all'asfalto, l'asfalto che è nero opaco, ossia la cosa, le caratteristiche che assorbono in maniera più efficace la parte calda della relazione solare diventano roventi, abbiamo visto le varie diapositive che dimostrano quanto sia diversa la temperatura dove sono degli alberi o dove c'è l'asfalto, ci sono dei test che chiunque può fare a Genova e tra l'altro sono anche delle caratteristiche che impattano su delle piccolissime aree. Se uno in un piazzale cementificato come può essere il lungomare che c'è nella zona di Negro va sotto quella magnolia gigante che c'è in prossimità della fermata metropolitana, se uno va sotto quell'albero dice ma hanno acceso l'aria condizionata. Non è l'aria condizionata, è quella magnolia. Un altro elemento che è particolarmente suggestivo è quella piccola foresta di pitosfori che c'è in via rimassa arrivando verso mare. D'estate, caldo, la vicinanza del mare è l'umido quando uno va sotto questa piccola foresta immediatamente ha la sensazione che abbiano acceso qualcosa. Vi accecchi la parte finale e ci sono i pioppi la stessa questione. Attenzione perché l'albero è un anticondizionatore perché riesce a mantenere non solo l'aria più fresca ma come dicevo prima è un ammortizzatore della qualità dell'aria. Dicevamo il particolato l'umidità dell'aria che viene equilibrata dalla presenza degli alberi e in ultimo la temperatura. Nelle nostre città però sta succedendo qualcosa che è esattamente a rovescio. Vabbè, tagliamo gli alberi magari facciamo anche un'operazione di greenwashing adesso esiste questa parola ossia diciamo che facciamo una cosa che introduce più verde così vendiamo meglio l'operazione però forse non è esattamente così e in questo è importante la capacità dell'amministrazione pubblica di fare delle valutazioni appropriate che non sia un esercizio di greenwashing ma sia effettivamente un qualcosa che incrementa la qualità del verde presente nell'aria. L'altra cosa che bisogna ricordare è che quando noi sia per dei fenomeni legati al cambiamento climatico sia per dei cambiamenti dell'urbanistica alziamo la temperatura diciamo ma che problema c'è ci sono i condizionatori ci dimentichiamo di due elementi fondamentali il primo è che per fare utilizzo proprio un paragone abbastanza rozzo ma efficace per fare un chilo di freddo si producono dieci chili di caldo cioè i condizionatori sono fatti di una parte che rilascia il freddo all'interno dell'abitazione per modo di dire e un evaporatore un compressore evaporatore che per produrre quel freddo ne fa dieci fa dieci volte caldo che rilasciamo nell'ambiente in una città come Genova che è una città verticale pensiamo ai carugi a quelle corti interne dove poi ci sono intorno tutti dei palazzi di otto piani se al piano terreno viene messo un condizionatore che rilascia nel cavedio il calore chi aprima priva le finestre per avere un minimo di ristoro di rinfresco cosa farà dovrà mettere il condizionatore a propria volta la cosa in via esponenziale farà sì che tutti dovranno mettere il condizionatore aumento dei consumi per cui aumento della CO2 prodotta e via dicendo ma con un altro fattore che però lì è direttamente medico l'aria prodotta raffreddata dai condizionatori è un'aria che non fa bene è meglio respirarsi una bella aria fresca di bosco che un'aria di qualunque condizionatore dell'ultima marca perché non è possibile riprodurre la qualità del rifrescamento dell'umidità della depurazione dalle particelle prodotte da un albero con degli strumenti artificiali per cui in maniera molto sintetica noi abbiamo un'emergenza caldo nelle città che sarà sempre più grave è uno dei modi per gestire sarà non ripetere degli errori che costano anche dal punto di vista della protezione civile pensiamo al discorso alluvioni Genova siamo esperti in questa materia dove non c'è verde non c'è terra non c'è un fenomeno di ammortizzamento della precipitazione arriva tutto nella fine dell'imbuto e sappiamo che cosa succede però gli strumenti per progettare per fare ce li abbiamo e a volte è sufficiente fare come facevano gli antichi questo qui è l'ospedale Galliera al quale sono molto affezionato perché ho iniziato a lavorare da giovane e come voi vedete è fatto a pettine c'è una una struttura rettilinea in curva che collega i vari padiglioni che sono i denti di questo pettine se voi vedete tra un dente e l'altro ci sono ancora degli alberi ci sono ancora degli alberi che erano stati messi quando eravamo scemi mi piace dire da quelli che avevano fatto il progetto di questo ospedale perché il caldo c'era anche allora adesso si è aggravato e questi alberi sono degli dei canfori che sono diventati enormi nel tempo e sono intanto una cosa bellissima da vedere ma soprattutto dove c'è il canforo si sta meravigliosamente e questi qui funzionavano all'epoca come condizionatori tornando indietro a quella che è l'attuale situazione del Galliera l'attuale evoluzione ci sono stati degli interventi che hanno comportato l'abbattimento di alcuni di questi canfori e quando uno passa tra un dente e l'altro del Galliera in certe zone prova una sensazione di benessere fisico perché a un certo punto dici ma cosa è successo qui è un malessere la temperatura e ti rendi conto che manca il canforo e dove manca il canforo vedi in tutte le finestre prospicenti quella zona del 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 Galliera dove hanno dovuto mettere i condizionatori per cui questo che è un esempio di come si è progettato in maniera intelligente e oggi abbiamo una coscienza in più nel fare le cose nella maniera appropriata è ultra evidente che il verde urbano è sinonimo di salute della città la formula è inutile recitarla perché viene da sé che in primis la tutela dell'esistente e la progettazione del nuovo sono una risorsa fondamentale perché nessun intervento di gestione della spesa pubblica sanitaria ripaga così tanto come la prevenzione e torniamo all'inizio abbiamo iniziato parlando di vaccini il vaccino è un atto preventivo a titolo di esempio vaccinazione anti covid il singolo vaccino costa pochissimo perché allo stato la fischia deve essere costata all'incirca 15 euro a dose sappiamo benissimo che senza arrivare ai morti come ospedalizzazione abbiamo risparmiato un'enormità come in tanti altri casi della vaccinazione lo stesso discorso vale per il verde e di conseguenza la formula la conosciamo grazie 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 a Giacomo Zappa